Musica Oggi noi ci troviamo di fronte a un funerale e ai funerali si partecipa con i crisantenni. Voi avete deciso di fare il funerale della democrazia. Deputati di Sella, non si lanciano fiori in aula, per favore togliete questi crisantenni, togliete questi fiori. Fuota unica, fuota unica, fuota unica. E' una cosa indescente che fa la Tisse. Bisogna fermare la mobilità e bisogna dare una prospettiva a questa azienda. La ringrazio. Presidente Ferrara, vorrei, ma lei questo lo sa ovviamente, per favore levate i cartelli, i colleghi, i commessi gentilmente tolgano i cartelli. Perché noi Presidente non ci stiamo più a farci trattare in questo modo, tanto più, tanto più, tanto più, che si sta facendo un danno enorme al mondo della scuola. Stanno continuando a lavorare per trovare una soluzione che rimetta rapidamente la Grescia sulla strada della crescita. C'è un problema che riguarda la libertà, la dignità, e noi a questo non rinunceremo mai. Ci ritroveremo per avviare un percorso politico sui territori. Un percorso appassionante, difficile, in cui credo tutti dobbiamo metterci a disposizione con coraggio, umiltà, anche con generosità.